Musica Sono all'esterno del Museo della Flora, della Vegetazione e del Paesaggio. Ad accogliermi c'è il signor Di Blasio Pierino, responsabile del museo. Buon pomeriggio e benvenuto su HTO. Buon pomeriggio. Signor Di Blasio, quando nasce questo museo? Tre anni fa. Vedo tante piante, dove ci troviamo esattamente ora? Ci troviamo sul terrazzo della sezione botanica e su questo terrazzo ci sono 70 varietà di pomace, tra melo, pero, ciliegio, qualche abicocco, qualche susina e ci sono 12 varietà di vitigni, tutte autoctoni, facendo parte dell'area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e sono vitigni antichi. L'idea è quella di conservare, custodire queste piante, non farle estinguere, dare la possibilità ai contadini del posto di venirlo a vedere, gli piace questo tipo di vitigno, gli facciamo la talea e lo va a imbiandare nel proprio campo per rimettere in produzione quel vitigno che si stava estinguendo. Signor Di Blasio, come è strutturato il museo? Allora, nella parte bassa abbiamo una sala vetrinata con nell'interno delle aree facendo parte del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Abbiamo uno spazio dedicato alla degustazione, abbiamo uno spazio aperto da utilizzare in diversi modi, in diverso uso. Ci possono allestire delle mostre, sia di utilizzo di carattere divulgativo che istruttivo. Inoltre abbiamo anche uno spazio dedicato al campo base dove facciamo raffating sul fiume Tanagro. L'accompagno e lo andiamo a vedere. Signor Di Blasio, in quale sezione del museo ci troviamo ora? Nella sezione botanica. Quando nasce questo museo? Un paio di anni fa. Sezione botanica, quindi ci sono altre sezioni? Sì, in Pertosa Paese abbiamo la sezione dedicata sulla archeologia e sulla speleologia. Ci può spiegare adesso invece in questa sezione che cosa c'è? Sì, noi ci troviamo in questa sala vetrinata, potete notare che nei quattro angoli ci sono quattro vetrine e su ogni vetrina ci sta un luogo che fa parte del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Le vetrine si cominciano a guardare sempre dal basso proprio perché sotto i nostri piedi ci stanno i suoli e il tipo di suolo che troviamo in quest'area specifica, il mare e la costa, è un suolo che si definisce a grossa granulometria perché è formato da tanti ciottoli di dimensioni diverse una dall'altra ed è un suolo purtroppo avverso all'attecchimento della vegetazione. Infatti le piante hanno difficoltà a vivere in questo tipo di suolo. Però ci sono delle piante invece che lo prediligono, tipo il pangratium marittimo, tipo la ceratonia silica che sarebbe poi la carruba e come anche altre piante, ad esempio il lentisco, il cisto, il mirto, l'erica, la ginestra, queste sono definite delle piante sclerofille perché hanno sviluppato una metamorfosi nella loro corteccia e nelle loro foglie, riescono a non far evaporare l'acqua per cui riuscendo a trattenere l'acqua riescono a sopravvivere per più tempo in questa zona più secca, più arida. Signor Di Blasio, qual è la pianta più importante del Cilento? La pianta più importante del Cilento e del Valloridiano è sicuramente la primuola di Palinuro. La primuola di Palinuro viene definita una pianta endemica di primo grado perché è una pianta che la riusciamo a vedere in una zona ben delimitata che va da Capo Palinuro all'isola di Dino. La primuola di Palinuro è un regalo delle glaciazioni per un semplice motivo perché la primuola di per sé come pianta è una pianta di montagna. Questo semino è rimasto in montagna congelato per tanto tempo. Quando c'è stato l'inalzamento delle temperature, questo semino si è scongelato e l'acqua l'ha portato giù a valle e in quella zona ha trovato una condizione tale dove è riuscita ad attecchire e ad averla fino ai giorni nostri, a vederla fino ad oggi. Tanto è importante per il Parco Nazionale del Cilento e del Valloridiano questa pianta che l'ha utilizzata addirittura come logo. Infatti in tutta l'area del Parco Nazionale del Cilento e del Valloridiano troviamo sui cartelloni pubblicitari questo fiore disegnato perché veramente è unica. Infatti la troviamo solo in questa zona e in nessun'altra parte del mondo. Signor Di Blasio, oltre alla primuola di Palinuro ci sono altre piante particolari? Sicuramente abbiamo l'Ampelodesma mauritanicus che è una pianta molto interessante. Ci sarà sicuramente da dire tantissime cose su questa pianta. Ad esempio che è una pianta che ha una notevole forza di tiro sia nelle sue foglie che nelle sue radici. Infatti su questa pianta c'è stata fatta una prova di strappo col dinamometro. È uno strumento che tira in uguale misura nella direzione opposta. Facciamo un esempio. Se il ferro tirandolo ha una rottura a 200 newton, questa si spezza a 130, che per una fibra vegetale è proprio un'enormità. È una pianta questa definita etnobotanica perché è molto utile, si lascia lavorare, per cui ha fatto l'economia di alcuni paesi del Cilento, soprattutto per la realizzazione di questo cordame che si chiama Libano e che è una corda lunga esattamente 42 metri che è stata utilizzata per tantissimi anni per l'allevamento dei mitili. Infatti si gicospergevano sopra le larve delle cozze e si mettevano nell'acqua del mare a farle crescere perché è talmente resistente che non si disfa nemmeno se sta nell'acqua del mare. Poi è una pianta definita pirofita attiva, il che vuol dire che se c'è un ingendio dove brucia tutto, la prima poi a fuoriuscire dal terreno è proprio questa pianta qui perché da vicino alle radici ha delle cellule dorminti, così sono chiamate, che quando la parte in superficie è morta, si è bruciata, si aprono e riformano di nuovo. La pianta, oltre a riprodursi per semi come tutte le graminacee, perché questa pianta fa parte della famiglia delle graminacee. Piglia due nomi dialettali, una tagliamano e l'altra cernicchiara. Tagliamano è molto semplice da spiegarlo perché abbiamo detto che ha una notevole forza di tiro, per cui se provi a destirparla non riesci, le foglie hanno il bordo revoluto, ti scivono dalle mani e ammangabilmente ti tagliano. Invece cernicchiara perché, possiamo vedere quest'altro attenzio circolare, che in dialetto si chiama cernicchio, ma in realtà sarebbe il setaccio, che si costruisce utilizzando tutte le parti della pianta, le foglie, il fusto e le radici. Invece quest'altro attrezzo, questo disco, chiamiamolo così, si chiama fiscolo. Il fiscolo è stato utilizzato tanto tempo fa nei frantoi, che veniva, serviva per filtrare praticamente l'olio dalla pasta prodotta dalle olive macinate. Per cui c'era tutto un procedimento, praticamente si metteva sotto la pressa, si primeva il tutto per far uscire l'olio e si separava dalla pasta. Molto molto interessante. Poi il tutto è stato sostituito con la canagua nei giorni nostri. Ci siamo ora spostati nella vetrina dedicata alle aree aperte. Signor Di Blasio, che cosa significa aree aperte? Per aree aperte si intendono quelle zone più pianeggianti, dove è più facile fare la coltivazione. E come semi da coltivare abbiamo soprattutto fagioli, perché nell'area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Liano ce ne sono 74 varietà. Signor Di Blasio, abbiamo parlato adesso delle aree dedicate al mare e alle aree aperte. Adesso invece in quale area ci stiamo spostando? Stiamo raggiungendo le aree boscate. E sicuramente in quest'area c'è da conoscere meglio questo radicone. In realtà questa è l'erica. L'erica è una delle piante che come legno è durissimo, tanto che è duro che resiste alle alte temperature. Oltre ad essere una delle piante che cresce in maniera lentissima. Infatti la dimensione del fusto, per raggiungerlo, questa dimensione, ci sono voluti 30 anni. Se andiamo a guardare i cerchi, che sono coloro che ci fanno capire l'età di quel tronco tagliato, possiamo renderci conto che sono millimetrici. Infatti per diventare di queste dimensioni ci sono voluti, appunto, come dicevo, 30 anni. Abbiamo detto prima che è una delle piante durissime, che il legno resiste alle alte temperature. Infatti con la scocca dove si diramano le radici, che è la parte più dura della pianta stessa, si ricostruisce il cannone delle pipe. Ancora adesso a Torchiaro, un paese del Cilendo, ci sta un produttore di pipe che utilizza le radiche di erica. Ci spostiamo un po' più avanti, perché un'altra cosa molto interessante è la casiloteca. La casiloteca, l'esposizione dei legni che troviamo nell'area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo Idiano. Si espone proprio in questo modo, con questo taglio, vedete, l'oncitudinale, che ci fa vedere il colore delle cortecce e le venature dei legni, e poi c'è il taglio trasversale che ci fa vedere i cerchi, gli anelli, che, come abbiamo detto prima, condandoli, si riesce a capire l'età di quel tronco tagliato. Signor Di Blasio, qui vedo tante orchidee. Sì, infatti una piccola vetrina dedicata proprio alle orchidee, perché in Italia ci sono 72 varietà di orchidee selvatici, 72 specie. Noi qui abbiamo nel Vallo Idiano, esattamente a Sassano, una vallata che è stata denominata proprio la Valle delle Orchidee, che si trova a circa 800 metri sul livello del mare. E in questa vallata sono state trovate 70 varietà di orchidee, per cui ce ne mancano solo due. E ovviamente invito ad andarle a vedere, perché quando sono fiorite sono stupende. Signor Di Blasio, quest'ultima vetrina mi sembra dedicata alla moda, perché vedo che ci sono tanti colori. Sì, perché in questa vetrina ci sono un po' i colori del Mediterraneo. Perché i colori del Mediterraneo? Perché da tutte le piante della macchia mediterranea si può estrarre colore. E il colore si può estrarre da tutte le parti della pianta, dalle foglie, dalla corteccia, dalle radici, dal fiore, da tutte le parti della pianta. Infatti ne possiamo guardare qualcuna, ad esempio il guado, che dà questo bellissimo celeste, come la cocciniglia che dà questo bellissimo rosso, e ancora la robia, che dà questo arancione stupendo. Ma possiamo andare oltre. La fondazione Mida ha portato avanti un progetto, tingere col carciofo bianco. Infatti anche il carciofo bianco è una pianta tintoria. Dal carciofo bianco sono stati estratti tre colori naturali, il giallo Romida, il verde Pertosa, il marrone Terra Deoletta. Quali parti del carciofo vengono utilizzati per avere poi alla fine questi colori? Allora, per avere il giallo Romida bisogna utilizzare le foglie essiccate. Per avere invece il verde Pertosa bisogna utilizzare le Bratte Verdi. Per avere invece il marrone Terra Deoletta bisogna utilizzare le foglie essiccate con aggiunta di aceto. Per avere invece il nostro corso gratuito,